A partire dal 1 giugno Corteva è una realtà, quindi Corteva viene nella fusione di società come Dow, DuPont, Core Protection e Pioneer. A distanza di 6 mesi dalla fusione possiamo già dare un primo bilancio per i nostri investitori, quindi siamo cresciuti da un punto di vista dei nostri introiti, abbiamo colto le sinergie che ci aspettavamo di cogliere, mantenendo e aumentando quelli che sono gli investimenti in ricerca e sviluppo, per cui un primo bilancio direi che è senz'altro positivo. Sono timori che si possono capire, però c'è anche da tenere presente che il consumatore e tutti noi vogliamo un'agricoltura più sostenibile, un'agricoltura che sia in grado di dare ai consumatori i prodotti più sostenibili, con delle tecnologie che inquinano meno e quindi è una grossa sfida, è una grossa sfida che richiede un forte investimento in ricerca e sviluppo e questa aggregazione di grosse società è data proprio dal fatto, dall'esigenza di aumentare questi investimenti e cogliere queste sfide e trovare delle soluzioni. Questo non toglie nulla al fatto che le autorità abbiano approvato queste fusioni, quindi la concorrenza nel mercato rimane intatta e per l'agricoltore così come per il consumatore rimane il beneficio di avere, grazie alla concorrenza, dei prezzi competitivi. E non toglie neanche il fatto che comunque, pur essendo società adesso molto grosse, noi siamo presenti in 140 paesi, abbiamo una forte presenza locale, quindi in realtà beneficiando di queste economie di scala a livello globale siamo allo stesso tempo un attore locale che fa molto leva sulla presenza locale, siamo presenti in Italia ad esempio con due siti produttivi, un sito di ricerca con più di mille persone associate alla nostra attività e nello stesso tempo il mercato rimane vivace perché c'è spazio per attori o start-up, società che portano delle tecnologie nuove per delle soluzioni specifiche, per cui direi che nonostante la paura tutto sommato questo processo sicuramente porterà dei benefici all'intero settore. Corteva ha una filiale, una società che si chiama Granular, che fa parte di Corteva e che offre dei servizi agli agricoltori per il miglioramento della gestione dell'azienda agricola stessa e della valorizzazione dei propri terreni, della pianificazione. Dopodiché specificamente in Europa e in Italia abbiamo delle soluzioni, dei servizi che provvedono delle immagini satellitari tramite satellite oppure anche delle immagini tramite drone agli agricoltori stessi, i quali possono utilizzare insieme al nostro servizio di consulenza queste immagini per migliorare il trattamento delle proprie culture, per farlo in maniera selettiva e puntuale piuttosto che generalizzato. Abbiamo inoltre dei servizi di prevenzione delle malattie che danno all'agricoltore un'informazione anticipata quando una certa malattia si sta propagando. Certo, le soluzioni sono nell'ambito di quelle che sono le legislazioni vigenti della comunità europea e dell'Italia, nella fattispecie, quindi la prima soluzione è quella senz'altro di rispettare queste leggi, quindi i dati appartengono all'agricoltore, quindi sulla base della sua autorizzazione questi dati poi possono venire utilizzati insieme all'agricoltore per potergli fornire degli spunti per migliorare la propria produttività o per sviluppare dei prodotti. Direi che non è importante da un lato rispettare tutte quelle che sono le regole in questo settore, dall'altro lato però non bisogna esitare nell'utilizzare questi dati perché sicuramente l'utilizzo di questi dati permette un continuo miglioramento da un punto di vista produttivo sia per l'agricoltore che per l'azienda che deve sviluppare nuovi prodotti. No, non ci preoccupa, anzi siamo ben contenti, noi crediamo molto in un approccio di open innovation e quindi di una collaborazione con i diversi attori del settore, chiaramente ognuno ha le proprie competenze ed è chiaro che un player come Google potrà portare delle competenze specifiche nel settore digitale che sicuramente aiuteranno all'agricoltura a progredire nella direzione auspicata, ma questo nulla toglie al valore aggiunto che un'azienda come la nostra può portare nello sviluppare nuove soluzioni di trattamento prodotti per le sementi e anche digitali. Porteva in termini di innovazione propone, diciamo, noi siamo presenti negli agrofarmaci, nelle sementi, così anche come nel settore biologico, quindi direi che nell'agrofarmaci abbiamo tutta una serie di nuove molecole che sono state sviluppate e che offrono la possibilità di trattare le piante con una riduzione drastica dell'impatto ambientale. Per quanto riguarda le sementi, chiaramente lavorando sul germoplasma, riuscire a sviluppare nuove varietà e nuovi ibridi che diano le caratteristiche anche lì nutrizionali e magari di resistenza, resistenza alla seccità, resistenza alla malattia che permettono un minore utilizzo di sostanze per il trattamento. E poi c'è queste che vengono definite le nuove tecnologie genetiche, per cui la CRISPR-Cas, che dà la possibilità di creare nuove varietà all'interno della stessa specie con un intervento genetico, quello che avviene già in natura ma fatto a laboratorio e per sviluppare piante che siano più produttive e allo stesso tempo più resistenti a quelli che sono dei fattori patogeni oppure quelli che sono le condizioni ambientali.